Oggi era la giornata internazionale dedicata al teatro, una forma d'arte antichissima e bellissima che ha visto coinvolti centinaia di giovani studenti delle scuole primarie. Il teatro dei rinnovati oggi era al completo per la presenza di tanti ragazzini, un evento che è stato organizzato proprio per festeggiare questa giornata dall'Agenzia Ex Tempora e allora noi siamo andati a sentire com'è andata. Stamattina è appena finita una pièce teatrale dedicata alle scuole cittadine, erano presenti alunni dalla quarta elementare fino alla prima superiore, il teatro era pieno, festeggiavamo insieme la giornata internazionale del teatro che cadeva il 27 di marzo. In un modo particolare con apparizioni da platea, da palchetto, non solo con pièce da palco, ci sono state delle incursioni animate che miravano ad avvicinare anche il pubblico più giovane a quest'arte meravigliosa che è il teatro. Abbiamo parlato della storia di questo teatro con i vari restauratori che si sono susseguiti nelle epoche, della storia del teatro in generale dalle primissime epoche in cui sono apparse le prime performance fino a dei finti provini proprio fatti da adolescenti, come capita magari anche oggi di sentirsi dire le faremo sapere. Un grandissimo entusiasmo, hanno seguito credo con facilità perché erano apparizioni molto veloci, quindi molto fruibili, senza punti morti, insomma non c'è stato un attimo di fermezza e soprattutto hanno visto all'opera ragazzi anche della loro età, quindi si sono proprio sentiti coinvolti credo in prima persona. Alla fine abbiamo letto dei messaggi sul teatro e su cosa rappresenta per loro l'arte del teatro che avevano buttato giù in classe.